imparare a gestire bene i nostri dubbi è fondamentale i dubbi possono essere la nostra salvezza perché ci possono mettere in una condizione di allerta di attenzione i dubbi riferiti qui a tantissimi ambiti che possiamo incontrare quindi nella scelta di un nuovo lavoro nella scelta di una relazione nel mentre che svolgiamo una particolare azione alcuni dubbi ci possono essere estremamente utili perché ci possono aiutare a dirigere meglio l'attenzione e quindi a dirigere meglio quelle che sono tutti i percorsi di azione che poi andiamo ad intraprendere dall'altro lato i dubbi possono essere anche la nostra distruzione perché nel momento in cui ad esempio abbiamo scelto di portare avanti confermezza una certa una certa linea di azioni in qualsiasi ambito della nostra vita ecco che allora naturalmente la nostra mente tende a portare una serie di dubbi di preoccupazione a volte di angoscia rispetto a quello che stiamo facendo allora imparare a gestire bene i propri dubbi anche in quella circostanza capendo bene se sono dubbi leciti che ci possono in effetti aiutare a migliorare la situazione oppure illeciti oppure dubbi eccessivi oppure dubbi che semplicemente ci vanno a sviare da quelle che sono le scelte che abbiamo deciso di portare avanti nella vita allora ecco che se riusciamo a fare questo se riusciamo a discernere possiamo far sì che questi stessi dubbi non vadano a distruggerci non vadano a rovinare la nostra esistenza per cui ecco è molto importante ed è questo il messaggio che vorrei passarti oggi riuscire a discernere fra quelli che sono dubbi sani utili sensati appunto che ci aiutano veramente a capire meglio le situazioni che stiamo affrontando da quelli invece eccessivi da quelli a volte infimi che vanno in qualche modo a così a distoglierci da quelli che sono gli obiettivi importanti che abbiamo deciso di perseguire nella nostra vita